Ma il tuo istinto deve essere per forza quello di tradire! No, monsignore, voi non l'avrete, non la spunterete. Certo, siete un grande signore, lo so, ma non per questo siete autorizzato a credervi un genio. E poi del resto, che cosa avete fatto per procurarvi tante ricchezze, ariche, onori? Niente, tanta abbondanza per niente. Voi vi siete preso soltanto il disturbo di nascere e basta. Io invece, che tanta cuccagna non ho, ho dovuto sudare, barcamenarmi, acuzzare tanto ingegno quanto ne basterebbe a governare per cento anni la Spagna intera! Grazie! 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 Grazie!